La necessità di una connessione perenne, di sentirsi quasi in dovere di partecipare, senza poi davvero partecipare nel senso nobile del termine, sono a mio avviso dei potenziali ordini difficili da disinnescare. Buongiorno a tutti e a tutte, questo è Non passa nada. Io sono Marta, io sono Giulia e io sono Francesca. E questo è Coming Clean, le interviste che rendono pop la salute mentale. Bentornati e bentornate su Non passa nada, questo è Coming Clean. In questa nuova puntata di Coming Clean abbiamo un'ospite graditissima, attrice, scrittrice, regista. È con noi Francesca D'Aloia. Buongiorno Francesca. Buongiorno a voi. Ciao Francesca, buongiorno. Senti, parto io chiedendoti subito, al di là dell'essere così poliedrica, vorrei tanto sapere che cos'è per te la salute mentale e come te ne prendi cura quotidianamente? Beh, allora, preservare la propria salute mentale di questi tempi, diciamo, in presa arva, no? Al di là delle persone che sono afflitte da problemi diagnosticati e quindi che diventano materia, materia, diciamo, per gli specialisti, la salute mentale di ciascuno di noi, no? La cura della salute mentale di ciascuno di noi dovrebbe essere, secondo me, considerata al pari della cura del corpo, del corpo fisico, no? Che invece, no, viene continuamente sollecitata, incentivata alla cura del corpo, no? Poiché, insomma, la salute mentale viene messa costantemente in pericolo, no? E di questo, a mio avviso, si parla troppo poco. Non so, io mi riferisco ad abitudini ormai conclamate, no? Che mettono a rischio, secondo me, quotidianamente la nostra salute mentale e le cui conseguenze non sono mai sufficientemente considerate. Esatto. Cioè, l'uomo moderno è soggetto a forme di dipendenze del tutto nuove, no? Del tutto nuove, che sono apparentemente innocue, ma secondo me altrettanto nefaste da un punto di vista proprio di equilibrio psichico, no? Cioè, il telefonino, internet, la necessità di una connessione perenne, di sentirsi quasi in dovere di partecipare, no? Senza poi davvero partecipare, nel senso nobile del termine, no? Esatto. Sono, a mio avviso, dei potenziali ordini difficili da disinnescare. Quindi la salute mentale, secondo me, significa equilibrio, no? È l'allineamento ideale fra corpo e mente, ecco. Nel mio piccolo cosa faccio? Cerco di tenermi alla larga da ciò che ho imparato negli anni a riconoscere come tossico, come tossico per la mia mente, no? Cioè, i luoghi affollati, l'uso sproporzionato della televisione, la dipendenza dal telefonino, da cui non sono poi completamente un elemento contro cui combatto con grande difficoltà, no? Penso sia molto difficile adesso essere scevri dalla connessione, dal cellulare, dal fatto di esserci. E proprio su questo ti chiedo anche sull'esserci. Come mai hai accettato di essere ospite in un podcast sulla salute mentale? Allora, ho accettato perché il tema della salute mentale mi è sempre stato caro, mi è caro da sempre. Si vede anche nel lavoro che ho scelto di fare, diciamo, nell'ultima parte della mia vita che è scrivere, appunto. Mi sono sempre, sia nei romanzi che ho scritto, quindi nei personaggi di finzione, diciamo, come poi invece i personaggi che ho raccontato dopo, che sono invece delle persone reali, c'è sempre qualcuno che ha a che fare con questi problemi, no? Non so, anche negli articoli che sto scrivendo recentemente, in cui faccio questi ritratti, e da qualche anno lo sto facendo male, lo sto raccogliendo parecchi, molti, appunto, di questi personaggi, anzi, no, ripeto, di persone, perché si tratta di persone, hanno avuto problemi del genere. Mi riferisco, non so, per esempio a Camille Claudel, la scultrice, è uno dei più recenti, che ho scritto Camille Claudel, che è stata rinchiusa e segregata in un manicomio per 30 anni, e lo stesso a sorte è toccata, non so, a Lucia Joyce, di cui parlo, che è un personaggio molto interessante, è una ragazza dotata di grandissimo talento, una ballerina prodigiosa, James Joyce, però con dei problemi psichiatrici che non volevano essere riconosciuti, riconosciuti, perché lì c'è sempre, e questo è interessante il tema, perché, per esempio, le persone di cui parlo sono persone che vengono da famiglie importanti, colte, suadisò, illuminate, che dovrebbero capire, e malgrado ciò, quindi neanche le famiglie più, diciamo, che dovrebbero capire meglio i problemi delle persone, davanti alla follia c'è una specie di tabù, di blackout, per cui scatta il sentimento della vergogna, e queste persone sono state rinchiuse, soprattutto per vergogna, per tenerle lontane, distanti dal buon nome di famiglia, con la paura che potessero, appunto, incrinare la credibilità del loro buon nome, ecco, tutto questo è, secondo me, molto interessante, e anche perché, soprattutto, questo è il lato ancora, che mi interessa ancora, e che continuo a studiare, a approfondire, è il legame molto stretto che c'è, che c'è stato, e c'è fra l'arte e il disagio psichico. Ma infatti, volevo proprio chiederti questo, questa sarebbe la domanda che sarebbe arrivata dopo, e appunto, tu ti occupi comunque di un settore che è artistico e culturale, l'arte, secondo te, può essere usata come terapia, come modalità di espressione, nell'ambito della salute mentale? Ma certo che sì, certo che sì, ci sono casi, esempi, molto illustri, di persone che utilizzano, appunto, l'arte, come veicolo di cura, come veicolo, l'arte è un canale di espressione, cioè, è un veicolo di espressività, no? Che spesso, non si frequenta, per cui si scopre, magari, si scopre per caso, ma una volta scoperto, e una volta incanalate lì, le energie, che in altri modi, sarebbero implose, e farebbero dei danni, attraverso la pittura, soprattutto, le arti, appunto, figurative, in questo senso, sono più adatte, diciamo, no? Ecco, per esempio, Camille Claudel, la scultura, lei si, si, riusciva a creare, un connubio, talmente forte con la materia, che, in quei momenti, lei riusciva, a isolarsi, da tutto il resto, ecco, forse è un po' quello, serve, il bisogno di concentrarsi, su qualcosa, in cui ci si può esprimere, senza fare danni, ecco, senza essere pericolosi, senza sentirsi pericolosi, è fantastico, trovo che sia, cioè, trovo, è provato, credo, che sia proprio, una metodica, comitato scientifico, è efficace, anche per le persone sane, tanto più per le persone che hanno dei problemi, è certo, perché comunque l'arte permette anche a chi, a dare una voce, a chi la voce ce l'ha, ma non sa, come utilizzarla, o comunque non viene compreso, l'arte è un, secondo me, è un ottimo strumento, proprio per questo, non è un caso, adesso ci sono appunto delle associazioni, che si occupano, e quindi indirizzano loro, cioè, si aiutano dei ragazzi, e li indirizzano verso, verso discipline artistiche, ma ci sono molti esempi di persone, che non hanno avuto nessun aiuto, e che da soli, intimamente hanno scoperto, e hanno dato ascolto a questa voce, che magari non aveva, appunto, ci sono arrivati per caso, vediamo Van Gogh, vediamo Ligabue, ci sono tantissimi esempi di persone, che sono riuscite, non a risolvere, però a canalizzare le loro energie, dando vita, dei capolavori straordinari, quindi, le persone che hanno quei problemi, sono persone estremamente sensibili, che hanno una visione del mondo, della vita, talmente particolare, peculiare, e straordinaria, che quella visione lì, può talvolta trasformarsi, in capolavoro. Collegandoci a questo bel excursus, facciamo la domanda conclusiva, che si collega molto bene, con la parte di comunicazione, di espressione, che cosa pensi che oggi sia importante, sarebbe importante cambiare, della comunicazione, degli aspetti della salute mentale? Intanto per cominciare, io abolirei la retorica, che è un male che affligge la società moderna, e non soltanto in quest'ambito, voglio dire, proprio la retorica come narrativa corrente, e affronterai il tema in maniera pragmatica, e diretta, c'è un paradosso, i pazzi un tempo venivano rinchiusi in manicomio, quindi diciamo confinati fuori dalle mura della città, lontani, però paradossalmente, pur non essendo visti, si sapeva della loro esistenza, oggi appunto, torno a dire che risulta come un paradosso, non esistendo più i manicomio, è come se si fosse rimossa anche l'esistenza di coloro, che un tempo li abitavano, è molto strano questo, cioè voglio dire, il problema delle persone colpite da appunto, disagi psichici, adesso sono, diciamo, è un problema che riguarda solo le famiglie, cioè le famiglie... Sì, è molto circoscritto. Esatto, è un problema sì che emerge, ed è affare diciamo delle famiglie, molto più che della società, e questo per esempio è un altro principio che andrebbe rovesciato, bisognerebbe cominciare a, distruggere, a lavorare, nella distruzione di questi stereotipi, e attraverso campagne informative, attraverso appunto informare nelle scuole, perché lo stereotipo è difficilissimo poi da abbatte, perché una volta che si è instaurato, installato, è molto difficile... Cosa va di Carlo? ...sfruggerlo. Beh, è quello che proviamo a fare anche noi, no? Nel nostro piccolo... vogliamo di destigmatizzare la salute mentale, in modo che possa essere finalmente riconosciuta come salute, e non possa più essere un'indicazione, un'etichetta, una categorizzazione, che mira ad allontanare le persone le une dalle altre. Queste persone che hanno problemi, che si auto-allontanano, perché sentono su di loro questo giudizio, diciamo, questo pregiudizio, e questo è una cosa... Noi saremo spregiudicate, quindi senza pregiudizio. Noi, Francesca, ti ringraziamo infinitamente. Sì, perché è stata un'intervista meravigliosa, quindi grazie, grazie per il tuo contributo. Speriamo di aver ispirato qualcuno a fare qualcosa di artistico. La bellezza ci salverà. Grazie, Francesca. Grazie a voi. Buon lavoro. Grazie. A presto. Ciao. Coming Clean è un format No Passanada, prodotto da No Passanada, realizzato con il supporto non condizionato di Lundbeck e grazie all'editor Sandro Ghini. Ascoltaci sulla tua piattaforma preferita e seguici su Facebook, LinkedIn e Instagram a No Passanada underscore podcast. Ti aspettiamo. Grazie a tutti.